di Valentina Marchei, Ondra Otarek. Quanta attesa, ecco qui, ecco qui inquadrata. Quanta attesa soprattutto per la posizione da mantenere, ma veramente per la bravura che hanno dimostrato in così pochi mesi di raggiungere questi livelli. Per mantenere il quarto posto servono 109,34 punti. La strada. Lei ha una maturità incredibile acquisito, è un'attrice, vive la musica. Ok, triplo lutz, vediamo. Bene! Fantastico! L'elemento difficilissimo fatto. Adesso hanno il lanciato. Forza Vale. Benissimo! Triple Fig lanciato. Gesù, Gesù, Gesù. Sto sudando. Doppio twist. Molto bello! Molto bello! Grazie a tutti. 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 Bene anche il lift. Bene anche la spirale. Grazie a tutti. Bravissimi, solo l'errore nel salto in parallelo, bravi, 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 bravi. Però veramente bravi. Un programmone intenso, interpretato, costruito bene. Paolo, scusami, guardiamo proprio queste immagini perché racconta più di ogni commento. Una storia di 5 mesi o di 5 mesi o di 6 mesi soltanto insieme, ma intensissimi, bravi. Veramente bravi. Una difficoltà di una difficoltà incredibile. Guarda, arrivano già dei tweet per veramente sostenere questa coppia ed è bellissima, una definizione, un film sul ghiaccio. E' un film sul ghiaccio. È un film sul ghiaccio. Bellissima, veramente. Bellissima, veramente. Grazie. Grazie anche a tutti coloro che seguono così. Però avete sentito? Bravo, Ondrae. Insomma abbiamo sentito Francia contenta. Guardate come recitano questi ragazzi. Sì. Guardate Valentina che meraviglia. Esce tutta anche l'esperienza di Valentina. L'esperienza sono sì. E questo è l'elemento. Guardate questo triplo luz che meraviglia in unisono, ben fatto. Triplo luz, il parallelo. Sono loro in Europa e sono i secondi al mondo a realizzarlo. E dopo la Russia c'è ancora l'Italia che non è poco insomma. Veramente straordinari, no? Quello che dicevamo prima, complimenti ai nostri allenatori e alla nostra scuola perché insomma con tutte le difficoltà che ci sono, le poche piste, i costi tremendi, il lavoro fatto è proprio notevole. Bravi coreografi, bravi tutti. Andrea, Andrea Bongiovanni della Gazzetta dello Sport. No, avete detto bene voi insomma. Quello che questi due ragazzi in così poco tempo sono stati capaci di costruire ha del miracoloso quasi perché abbiamo ben visto che la specialità è complicata. Già cambiare partner è difficile. Inventarsi in una nuova specialità è complicatissimo. Tanto di cappello a Dondra ma ancora di più a Valentina che insomma veramente sta aprendo una strada perché i precedenti sono pochissimi, l'abbiamo detto anche nei giorni scorsi. Lei sta mostrando qualcosa di inedito e quindi complimenti a lei e complimenti a chi ha creato questa cosa che porterà lontano perché appunto in sei mesi già sono arrivati qui e se il progetto è quello di un quadriennio che si concluda con l'Olimpia del 2018 secondo me ne vedremo delle belle. Bellissimo programma. Io penso che il quarto posto lo possono tenere. Guardate che belli questi momenti di felicità. Questo urlo finale di Valentina e questo salto dove trova l'energia dopo questo programma fantastico. Beh, io penso che in questo salto ci sia la loro storia appena iniziata. Guardate Franca Bianconi al loro fianco. Allora, vediamo adesso il loro punteggio. Ovviamente sono tutti in attesa. Corrado Giordani 175 e 39 sono attualmente in terza posizione. 117 e 44, 58 e 13 technical elements, 59 e 31 i loro components, 7 e 25 gli skating skills, 7 e 14 le transition, 7 e 50 la performance, 7 e 57 la coreografia, 7 e 61 l'interpretazione. Valentina con queste lacrime ci fai piangere perché veramente è stata una scommessa vinta da Franca, da Valentina, da Ondra, dalla federazione, da tutto l'enturato.